Si è svolto nelle sale di Palazzo Lascaris il convegno Memorie Disperse, Memorie Salvate, promosso dalla consulta femminile del Consiglio. L'incontro è stato l'occasione per sintetizzare il percorso svolto tra il 2007 e il 2013 sul tutto il territorio piemontese per la ricerca e la salvaguardia di un gran numero di archivi e testimonianze delle donne.